Il pareggio è un giusto, perché per quello che si è visto in campo il pareggio è risultato più giusto, perché abbiamo incontrato una buona squadra, molto forte, strutturata fisicamente, che coprivano molto bene in ampiezza e in profondità, c'è solo il rammarico che abbiamo preso un pochettino un gol che potevamo evitare, perché loro erano bravissimi su questi calci da fermo, ci hanno creato tantissima densità e soprattutto avevano grossi calciatori che avevano delle traiettorie straordinarie, forse quello è l'unico rammarico, però penso tutto sommato bene, anche se poi alla fine abbiamo pagato sempre qualcosina, però col passare del tempo se riusciamo anche a mettere a posto la condizione fisica, penso che potremo migliorare ancora. E a proposito di percentuali, per migliorare la condizione fisica, Cosco a che percentuale vede la sua squadra? Proprio adesso parlavo con il mio staff, penso che alla prossima sosta, alla ripresa, perché sembra che alla sesta c'è la sosta, penso che dopo la sosta saremo al top della condizione. In questo momento stiamo soffrendo un pochettino, anche perché durante la settimana stiamo lavorando ancora tantissimo per mettere dentro il giusto carburante, però ripeto, oltre a questo aspetto la squadra ha saputo anche soffrire, perché abbiamo sofferto in alcuni francesi, non disunendoci, perché loro veramente a un certo punto buttando dentro anche i scappini hanno messo 4 attaccanti, ci hanno creato tantissime problematiche, la squadra anche con cuore era riuscita a tenere botta a tutte le situazioni.